Un furto sfumato è il complice che si trasforma in vittima. Questo in sintesi quanto accaduto a Crocetta del Montello, dove due marocchini di 22 e 28 anni sono stati fermati per aver rubato uno scooter di grosse dimensioni a un uomo residente a Riese Pio X. Il 22enne possedeva anche un altro motorino e un'auto, mentre il 28enne era completamente appiedato. Di qui le minacce del più anziano o al più giovane connazionale. Se non mi dai 1000 euro il motorino o la tua Golf farai una brutta fine. Nella notte tra martedì e mercoledì il 28enne, completamente ubriaco, ha cercato di assaltare l'abitazione del 22enne che viveva con moglie e figlio piccolo. Barricatosi in casa lindomani mattina, la vittima si è presentata dai carabinieri per denunciare quanto stava avvenendo. Grazie alla presa di posizione dei carabinieri che hanno ricevuto la denuncia da parte della vittima, si è riusciti a bloccare sul nascere un'estorsione aggravata commessa in concorso. Il marocchino è stato arrestato per estorsione aggravata in concorso, mentre denunciati sono finiti due complici, un marocchino di 30 anni e un tunisino di 33. La stazione è tutta di Crocetta del Montello, con la militare in uniforme e in abiti civili, hanno organizzato e predisposto un servizio che ha permesso di portare all'arresto dell'autore del reato. Nell'auto dei tre sono stati trovati un martello, coltelli e uno spray urticante, tutto finito sotto sequestro.